Dall'intrattenimento musicale allo sparo di mezzanotte, la città si prepara a festeggiare il suo santo patrono, una minifesta che negli ultimi anni ha perso il sentiment popolare ma che la parrocchia sta cercando di rimettere in auge. Il programma religioso prevede domani alle ore 18 l'esposizione del venerato busto di San Panfilo e i primi vespri, presi inutile a Vescovo Diocesano, Monsignor Michele Fusco. Il 28 aprile la Santa Messa sarà ufficiata nella Basilica Cattedrale alle ore 17, a seguire la processione che seguirà lo stesso percorso del venerdì santo. Dalla Cattedrale si metterà in via le Roosevelt per attraversare Corso Video, fare il giro della centralissima piazza Garibaldi, percorrere Corso Video a ritroso, rientrare in Cattedrale. Dopo due anni di stop forzato caso a Covid, torna in strada l'immagine del santo patrono. Per il 28 aprile è previsto anche il programma civile. Alle ore 9 e alle ore 16 il risveglio musicale sarà cura del complesso bandistico ACMI di Introdacqua. Alle 21 e 30 si svolgerà lo spettacolo musicale del gruppo Yardbirds. A mezzanotte circa la festa si chiuderà col botto, ovvero con i fuochi pirotecnici, un programma ancora lontano dai fasti di un tempo, ma che segna sicuramente un passo in avanti per il recupero della tradizione, per risvegliare l'amicizia e l'attaccamento a santo protettore.